Arresto cardiaco mentre guardava la partita del figlio, ricoverato quarantenne di Carrara. Truffa del reddito di cittadinanza, denunciate 45 persone per false dichiarazioni. Pietrasanta a Frana di Castello, in arrivo 400.000 euro per i lavori del terzo lotto. Grande successo per il Marmo e Michelangelo, oltre 1000 visitatori in un mese. Bando a modernamento Frantoi, prologata dalla regione la data di scadenza. Taglio del nastro per nonni deluxe, il progetto di Jennifer Calafiore per il benessere degli anziani. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale. Arresto cardiaco mentre guardava la partita, ricoverato un uomo di 40 anni per un infarto. I soccorsi lo hanno dovuto defibrillare quattro volte. L'uomo è comunque fuori pericolo di vita. I dettagli. Panico ieri mattina, intorno alle 10, al campo da calcio del Fossone a Carrara, quando un uomo di 40 anni, incursore della Marina Militare di La Spezia, ha iniziato improvvisamente a sentirsi male mentre stava assistendo alla partita di calcio del figlio. Le persone intorno al quarantenne originario di Carrara, appena hanno visto che l'uomo non riusciva a stare in piedi e lamentava un malore, hanno subito contattato i soccorsi. L'ambulanza con a bordo l'infermiera Arianna Ambrosi, la volontaria Veronica Veschi e l'autista Vittorio Menconi, si è precipitata al campo da calcio del Fossone e una volta arrivati sul posto, sono intervenuti in maniera tempestiva per cercare di salvare la vita dell'uomo, dato che tutti i sintomi facevano pensare a un infarto in corso. Da quanto riportato, i soccorritori hanno dovuto applicare il massaggio cardiaco e defibrillare l'uomo a bordo campo e dopo averlo portato via in barella in codice rosso con destinazione Lopa, sono dovuti intervenire col defibrillatore altre tre volte per poi somministrargli altri farmaci per mantenere il ritmo del cuore costante. L'uomo è stato sottoposto ad un delicato intervento che si è svolto nel primo pomeriggio di ieri ed è rimasto in tirampia intensiva. Il quarantenne è ora all'opa di massa e le sue condizioni sono ancora gravi, ma nonostante tutto non si trova più in pericolo di vita. Guardia di Finanza di Pisa Denunciate 45 persone per aver fornito false dichiarazioni cercando di ottenere reddito di cittadinanza per un totale di oltre 300.000 euro. Denunciati dalla Guardia di Finanza di Pisa 45 soggetti, i quali durante il controllo della spesa pubblica nazionale sarebbero stati scoperti a percepire regolarmente durante il bienio 2022-2023 il reddito di cittadinanza con un costo complessivo per lo Stato pari a 309.728 euro. I controlli hanno preso in esame numerose domande di accesso al reddito di cittadinanza e dopo lunghi controlli sono state trovate delle omissioni nelle dichiarazioni come ad esempio situazioni reddituali importanti le quali avrebbero bloccato l'accesso alla misura economica ai richiedenti o il mancato possesso del requisito della residenza in Italia di alcuni soggetti. Infatti, tra le persone denunciate è stato riscontrato che ad aver percepito il reddito di cittadinanza sono stati vari extracomunitari giunti da poco tempo in Italia quando il presupposto è la residenza da almeno 10 anni senza la minima conoscenza della lingua italiana elemento fondamentale per la percezione dell'aiuto economico uno dei soggetti denunciati era stato destinatario di misura cautelare motivo di esclusione mentre un altro aveva acquistato pochi giorni prima della presentazione della domanda un'auto nuova altro motivo di esclusione tutti i soggetti individuati sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per aver fornito dichiarazioni false e omesso informazioni per la richiesta del reddito di cittadinanza oltre alla denuncia alla procura della Repubblica di Pisa i percettori sono stati segnalati all'Inps per la revoca del contributo e per il recupero delle somme già erogate questa mattina è stata inviata al Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni e all'assessore regionale all'ambiente Monia Monni la richiesta a firma del Sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti di un incontro urgente per chiarire la questione ex Cava Fornace Giovannetti ha dichiarato che questa richiesta serve a richiamare l'attenzione del Presidente Gianni sulla preoccupazione per le modalità con le quali si è svolta la richiesta pubblica sul provvedimento autorizzato unico regionale al rilascio del permesso a conferire rifiuti oltre 43 metri l'amministrazione di Pietrasanta si è opposta prevedendo la destinazione agricola per la zona interessata incompatibile con l'attività di discarica per il proseguimento dello stoccaggio fino a quota di 98 metri si è opposto all'unanimità anche il Consiglio Comunale Giovannetti quindi si auspica che il Presidente Gianni accolga questa richiesta in un incontro dato che la Regione è l'unica in grado di bloccare questo provvedimento Frana di Castello via e lavori per il terzo lotto nei prossimi tre mesi continueranno i lavori di sistemazione sulle colline di Pietrasanta per un costo di oltre 400 mila euro vediamo inizieranno in questi giorni e proseguiranno salvo imprevisti per tre mesi i lavori del terzo lotto di sistemazione della frana storica in località Castello sulle colline di Pietrasanta questa mattina l'assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci l'ingegner Sara Benvenuto dell'ufficio tecnico comunale l'ingegner Riccardo Felicianio rappresentante della ditta incaricata dei lavori hanno incontrato i residenti della frazione collinare per illustrare lo sviluppo delle operazioni e ricevere indicazioni utili per l'esecuzione Marcucci ha annunciato che il cantiere lavorerà dalle 8 alle 17 ma che l'impresa garantirà ai residenti il passaggio nella fascia oraria di pranzo e anche in altri momenti della giornata qualora si rivelasse necessario Marcucci ha però rassicurato che si cercherà di svolgere ogni attività nel modo più rapido ed efficace possibile l'assessore ha poi ribadito l'impegno già assunto durante lo step di lavoro precedente a riasfaltare via Castello una volta concluso l'intervento in partenza che sarà dedicata a operazioni di regimazione delle acque meteoriche e stabilizzazione della viabilità L'importo del terzo lotto del costo di 468.000 euro è interamente finanziato da risorse del Piano Nazionale di Riprese e Resilienza erogata attraverso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Il progetto di messa in sicurezza della Fana ha un costo complessivo superiore a 1.400.000 euro ed è stato diviso in più lotti di intervento dall'amministrazione comunale per renderne sostenibile sia la parte economica sia le tempistiche e le modalità di lavorazione Il 13 gennaio il responsabile regionale di indipendenza Marco Braccini ha guidato il coordinamento regionale del Movimento a Pescia Durante l'incontro sono state riconfermate le linee guida del partito che mira a superare i tradizionali schemi politici di destra e sinistra prevedendo distanza dall'europeismo e atlantismo e sostenendo l'autodeterminazione e i diritti dei popoli Braccini ha incoraggiato i responsabili provinciali a occuparsi attivamente delle problematiche locali con un focus particolare sulla sanità in Toscana Il partito critica le politiche delle sinistre per indebolire e privatizzare la sanità affermando che ciò colpisce in modo più grave le classi meno abbienti violando il principio costituzionale di garantire cure garantite agli indigenti L'indipendenza si impegna a vigilare e denunciare eventuali abusi da parte dell'attuale amministrazione di destra come nel caso delle chiusure di distretti a massa L'annuncio di un prossimo incontro su massa presieduto da Gianni Alemanno è stato reso noto per coinvolgere ulteriormente la cittadinanza Il presidente di Italia Nostra a sezione di massa montignoso Bruno Giampaoli ha riferito di aver interloquito con l'architetto Tiziano Lera incaricato dal comune di massa di rivedere l'arredo urbano della zona pontile al quale lo stesso Gianpaoli aveva inviato una lettera di raccomandandoli di fare il possibile per enfatizzare le grandi statue di marmo attualmente posta in lato della piazzetta del pontile lato viareggio La richiesta si basava soprattutto sulla grande statua di Indian Alessandro Mosti detta Evoluzione opera che rappresenta bene l'autore prematuralmente deceduto e la città di massa con le sue peculiarità date dalla straordinaria sinergia fra mare e alpi apuane L'architetto avrebbe espresso il suo amore e rispetto per tutte le opere storiche ed artistiche presenti nel luogo confermando che ne terrà sicuramente conto e che ne darà la massima visibilità Grande successo per Marmo e Michelangelo, la mostra nell'ambito degli uffizi diffusi Oltre mille i visitatori in un mese Grande successo per la mostra da poco conclusa, il Marmo e Michelangelo, un mito dai Lorena e Savoia nella collezione degli uffizi nell'ambito appunto del progetto Uffizi Diffusi L'affluenza al castello Malaspina di Massa, al luogo in cui è stata allestita la mostra, è stata notevole con oltre mille visitatori che si sono recati sul luogo nell'ultimo mese Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, ha annunciato il successo dell'evento e l'interesse suscitato dalla mostra incentrata appunto sul legame tra Michelangelo e il Marmo delle Alpi Apuane Persiani ha inoltre espresso il desiderio di mantenere la collaborazione con la Galleria Fiorentina evidenziando però la necessità di lavori di ristrutturazione al castello stimati per circa un milione e mezzo di euro La mostra ha offerto un'affascinante testimonianza del passaggio di Michelangelo nella terra puana attraverso anche documenti del 1500 e opere provenienti appunto dalla Galleria degli Uffizi Curata da Elena Marconi della Galleria degli Uffizi e Luisa Passeggia del Comune di Massa la mostra ha presentato documenti dell'archivio di Stato e opere di prestito tra cui un basso rilievo di Vincenzo Consani e un dipinto di Francesco Vineo Queste opere rappresentano appunto la scoperta del genio di Michelangelo durante l'Ottocento e celebrano le glorie nazionali del nuovo Regno d'Italia La mostra è stata arricchita da sette conferenze che hanno incluso letture dei testi di Michelangelo un viaggio sulle tracce dell'artista a massa e un approfondimento sugli strumenti in marmo Il percorso ha inoltre presentato sei vedute storiche di Massa e di Carrara offrendo uno sguardo sulla città del XVI e XVII secolo con particolare attenzione al Castello Malaspina e ai contatti di Michelangelo con il Marchese Antonio Alberico Malaspina Questa mattina la sindaca Serena Righi accompagnata dall'assessora regionale all'istruzione Alessandra Nardini ha visitato alcune scuole carraresi La visita è cominciata dalla scuola del marmo di Ipia Tacca e proseguita nella sede di Assindustria per un incontro con gli studenti e insegnanti dell'ITIS Neomec 2023 e infine si è conclusa a Fossone con un sopralluogo alla primaria Pascoli e alla scuola dell'infanzia Taibi La Righi ha ringraziato l'assessore Nardini per la visita Occasioni come quelle di oggi sono un modo per toccare con mano i tanti punti di forza delle nostre scuole ma anche per vedere con i propri occhi cosa serve per migliorare ancora La Righi ha voluto mostrare all'assessore la scuola del marmo un istituto unico e fortemente identitario che potrebbe crescere molto, come riferito dalla sindaca magari in sinergia con un nuovo ITIS declinato specificatamente per il lapideo Anche in questa ottica la Righi e la Nardini hanno poi visitato la sede di Fossola di Confindustria Livorno Massa Carrara accolte dal Presidente Matteo Venturi gli studenti e gli insegnanti di Neomec 23 il primo ITIS della provincia Olio Prorogata dalla Regione Toscana la scadenza per le domande sul bando a modernamento Frantoi Il bando slitta per la difficoltà collegate alla compilazione delle domande sul portale Sian Vediamo È stata prorogata di un mese la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno sul bando di ammodernamento dei Frantoi Oleari che dunque dal 15 gennaio slitta al 15 febbraio di quest'anno La proroga è stata firmata dal settore agricoltura della Regione Toscana su indicazione della Vice Presidente e Assessore Stefania Saccardi preso atto delle difficoltà collegate alla compilazione delle domande di sostegno sul Sian il portale di erogazione dei servizi digitali del Sistema Informativo Agricolo Nazionale che sono pervenute tramite mail alla Regione e considerate anche le problematiche connesse alla sincronizzazione dei fascicoli aziendali di chi fa richiesta nel sostegno dovuto alle difficoltà di interscambio tra Artea ed il Sian Il bando, che può contare su una dotazione di 8 milioni e 335 mila euro concede contributi a fondo perduto per favorire la sostituzione o l'ammodernamento dei frantoi esistenti anche attraverso l'introduzione di macchinari e tecnologie che migliorino le performance ambientali dell'attività di estrazione dell'olio extravergine di oliva Il rinnovo degli impianti tecnologici è finalizzato anche al miglioramento della qualità degli oli e in generale all'incremento della sostenibilità della filiera olivico-olearea Una prorroga necessaria, detto la vicepresidente Saccardi, i frantoi oleari sono fondamentali per questa filiera strategica della Toscana e questo bando, molto atteso e fondamentale per il modernamento e il rinnovo totale dei frantoi ha un duplice valenza, quella dell'innovazione prima di tutto e quella della sostenibilità ambientale Torna il progetto Marmellata di Ant nel Comune di Massa Martedì 30 gennaio saranno disponibili 16 visite gratuite L'esame comporta visita senologica ed ecografia mammaria grazie all'impegno dei nostri volontari e al sostegno delle realtà sul nostro territorio Le visite per la prevenzione dei tumori della mammella saranno disponibili allo studio radiologico Mergoni in piazza Garibaldi a Massa dalle 9.30 alle 17.30 Le prenotazioni saranno possibili dal giorno 22 gennaio dalle 10 alle 12.30 fino ad esaurimento posti telefonando presso la sede Ant al numero 0585 0405 32 Adesso qualche istante di pubblicità, rimanete con noi DR 4.0 full optional di serie con 5 anni di garanzia Incredibile Formula 0, interessi 0, anticipo 0, maxirata 0 E tu hai in sole 60 rate da 339 euro Corri in concessionaria, l'offerta è valida solo per poco E tu hai in sole 80% la mia macchina bella ma da revisionare non preoccuparti a puana speedy è il centro revisione per veicoli fino a 35 quintali ciclomotori scooter e motoveicoli controlli accurati con servizio totale su carrozzeria officina gommista elettrauto unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu posso fidarmi tranquilla prezzi chiari personale qualificato preventivi e pre revisione gratuita e tutto in 30 minuti con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli a puana speedy via zara 8 10 marina di massa stregatto potresti dirmi per favore quale strada devo prendere tutto dipende da dove vuoi andare alice nel paese delle meraviglie allora è semplice la strada è quella che ti porta a mb garden e percorrendo la lunga via aurelia alice si trova di fronte ad un giardino ma non un giardino qualsiasi proprio da mp garden mb garden esperti in fiori e giardinaggio e tu veronica vuoi prendere in sposo il qui presente armando assolutamente sì ma perché perché lui sa fare tutto con le attrezzature noleggiate da ital nolo ha trasformato la nostra casa in una reggia tutto il bello del fare inaugurata la struttura per anziani nonni deluxe dove gli anziani si sentiranno come a casa propria un progetto di jennifer calafiore taglio del nastro per nonni deluxe il nuovo progetto di jennifer calafiore una casa famiglia per anziani in via sarzanello 372 nel comune di sarzana un progetto in cui jennifer ha messo anima e corpo nonni deluxe nasce dalla passione dall'esperienza ma soprattutto dalla passione nel nei confronti del mio lavoro io ho fatto sono 15 anni comunque sono dietro al settore e inizialmente ho fatto la animatrice in un istituto psichiatrico poi ho fatto la volontaria in pubblica assistenza e poi diciamo che ho avuto l'input giusto per diventare operatore socio sanitario l'input giusto me l'ha dato la mia nonna non a caso si chiama comunque nonni deluxe perché non è ville varie ed eventuali che si vedono in giro ma doveva trasparire il fatto che comunque per me loro sono nonni è un concetto bellissimo che sta dietro appunto questo progetto e c'è stato tanto lavoro immagino dietro si dietro c'è stato tanto lavoro c'è stato tanto nervosismo diciamo così e però alla fine l'importante è quello che viene dopo le soddisfazioni e cosa avrà di diverso nonni deluxe da tante strutture che vediamo in giro allora nonni deluxe di diverso potrebbe avere il concetto di famiglia potrebbe avere che all'interno della retta non sono compresi i soliti servizi ma ci sono anche altri servizi come il parrucchiere come la manicure il pedicure l'estetista e poi è un noi abbiamo voluto creare una una struttura o comunque un'organizzazione che a 360 gradi si prendesse cura dell'ospite quindi il medico di struttura che comunque viene una volta a settimana per visitare tutti gli ospiti e eventualmente a sistemare quello che c'è da sistemare per quanto potrebbe riguardare che ne sono le terapie o altro poi abbiamo il servizio infermieristico dove qualora ci fosse bisogno abbiamo anche l'infermiere fisioterapista abbiamo la dottoressa diletta sarzanini che si occupa invece di auto di audioprotesi e fa anche il controllo dell'udito una volta al mese tutto gratuito e poi ci abbiamo il fiore all'occhiello che è la dottoressa sturlese che praticamente farà attività di psicomotorità lei è una dottoressa psicoterapeuta c'è tipo quattro lauree ed è bravissima e farà delle attività rivolte appunto all'anziano e a quello che potrebbe essere il calo cognitivo e il degrado cognitivo che purtroppo c'è dopo una certa età ed è fisiologico quindi possiamo dire che questi nonni si sentiranno proprio a casa sì i nonni saranno assolutamente a casa loro il comune di forte dei marmi insieme a villa bertelli presenta la collettiva forte marmi nell'arte a forte leopoldo primo aperta al pubblico dal 20 gennaio al 25 febbraio la mostra omarge artisti legati a forte dei marmi includendo esposizioni francesco paolo ferrandello renato frediani e giancarlo cannas inoltre al termine sarà inaugurata la mostra la materia sogni propri dedicata a beppe domenici l'evento offre una varietà di espressioni artistiche con opere fotografiche sculture in marmo e opere di design ceramico inaugurazione fissata per il 20 febbraio alle 17 con orari di apertura specifici durante la settimana sabato pomeriggio sulla spiaggia di fiumetto a marina di pietra santa sono stati raccolti circa 300 kg di rifiuti dai volontari dell'associazione plastic free in un'operazione organizzata con il patrocinio del comune e la collaborazione di ersu una ventina di persone con tanti giovani e giovanissimi hanno risposto a una chiamata del sodalizio ambientalista che con pietra santa un rapporto di stretta sinergia grazie al protocollo di intesa la referente locale di plastic free sarà quintavalle ha dichiarato che con un dato positivo è che l'età media dei partecipanti si sta abbassando preoccupante però è il fatto che la qualità di rifiuti recuperati invece aumenta partito il conto alla rovescia verso la festa della canzonetta e del teatro dialettale pietra santino che giovedì 25 gennaio aprirà ufficialmente il palinsesto del carnevale 2024 i biglietti per la canzonetta saranno in vendita dal 18 gennaio solo al teatro comunale galeotti a pietra santa 10 euro in platea e 8 in galleria ingresso ai corsi mascherati costerà invece 5 euro con esenzioni per under 10 e over 70 ticket acquistabili nei giorni di carnevale presso i punti di accesso al circuito un assaggio di quello che andrà in scena al teatro galeotti e successivamente lungo il circuito del carnevale si può trovare online sulla pagina facebook ufficiale del comune di pietra santa dove ogni contrada racconta i davanti e il dietro le quinte della propria proposta targata 2024 domani alle 21 e 30 a villa scif la montignosina benedetta del freo in arte nimue presenterà in anteprima il video della sua prima canzone che si intitola ghost il video è stato realizzato da cheese tape studio e girato a villa scif saranno presenti il regista matteo palmerini lo sceneggiatore pierpaolo poggi il produttore ugo pongianni il 2024 agonistico di alisei golf e country club pietra santa è iniziato con il quinto trofeo nincini sport una luisiana quattro giocatori che ha visto ben tre squadre concludere in parità con 50 colpi grazie al miglior finale di gara sono risultati vincitori paolo vannucci stefano fontana riccardo tognetti e raimondo meneghetti mentre nel netto con 41 colpi si è imposta la squadra formata da fabrizio cinelli roberto cinquini paolo richard krupper e maria grazia delle donne ufficializzato il contratto di affiliazione tra us massese 1919 virtus poggioletto l'accordo permette di dare continuità alle operazioni fatte all'inizio della stagione calcistica per implementare il settore giovanile e dare la possibilità ai giovanissimi calciatori di pensare ad un futuro sportivo nella nostra città far crescere il vivaio che permetta di vedere alcuni dei giovani sportivi anche nella futura prima squadra della massese dalle 8 e 30 alle 13 di mercoledì 17 gennaio comunque fino a termine dei lavori a causa di un intervento manutentivo straordinario della rete idrica verrà sospesa l'erogazione dell'acqua potabile nelle seguenti strade nel comune di carrara via antonio bertoloni via bassa via lunenze via mattini via capitano michele fiorillo e corso da ribaldi gli utenti interessati saranno circa 1748 i lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di ambienti atmosferici avversi adesso diamo uno sguardo alle previsioni meteo dei prossimi giorni il meteo è presentato da brico center massa il tuo vicino di fare previsioni per martedì 16 gennaio tempo nuvoloso temperature stazionarie venti deboli o moderati e mare mosso mercoledì 17 piogge diffuse temperature minime in aumento venti di rinforzo da sud e mare mosso andamento nei giorni successivi tempo nuvoloso con piogge temperature stazionarie venti moderati e mare mosso per aggiornamenti meteo apuane punto it il meteo è stato presentato da brico center massa il tuo vicino di fare via marina vecchia 5 ti aspettiamo il nostro telegiornale termina qua grazie di essere stati con noi e buona serata grazie a tutti